Una donna succede a una donna alla guida della prefettura di Sassari. Da qualche giorno nel palazzo del governo in piazza d'Italia, al posto di Mariluisa d'Alessandro, è arrivata Paola Dessì, cagliaritana, nel quappoluogo regionale ha ricoperto il compito di prefetto vicario. A Sassari è stata capo di gabinetto e a Oristano ha di fatto svolto il ruolo di prefetto per un paio d'anni, fra il 2011 e il 2017. Ora è la prima donna a Sarda a ricoprire l'incarico di prefetto in Italia, la provincia più grande del paese. Questa è una provincia molto varia, molto sfaccettata per diversi aspetti, sia dal punto di vista sociale, culturale e di conseguenza anche sotto il profilo dell'ordine della sicurezza pubblica, che sicuramente è una delle priorità. Fra i grandi temi c'è anche quello del lavoro. Il lavoro è un altro degli argomenti focali dell'azione prefettizia, intanto perché le componenti sociali, i lavoratori, ma anche gli imprenditori si rivolgono a questa sede sia per dirimere delle vertenze come da norma, ma anche per rappresentare quelle che sono le difficoltà nello svolgimento delle attività imprenditoriali.